Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video su NBA 2K18 Supportate alla grande questa serie ragazzi cerchiamo di superare sempre i 1000 like è una cosa importante ve lo sto chiedendo ultimamente proprio perché so che è importante anche per i video per farli girare il più possibile e per darmi una risposta positiva ovviamente ragazzi è una cosa normalissima che vogliate di più però io non ho tutto questo spazio per fare 380 video quindi cercherò sempre di essere il più positivo possibile e anche di farne veramente tantissimi cercando sempre di darvi qualcosa almeno un video al giorno se dovessi saltare salterò solo un giorno ci sto provando ragazzi stiamo cercando di allargare la Miracle Nation che è sempre molto importante quindi per prima cosa i like arriviamo a più di 1000 anche oggi che sarebbe veramente incredibile per me seconda cosa importante siamo arrivati ai 30.000 sto cercando di preparare uno speciale 30.000 iscritti però voglio assolutamente vedere crescere tantissimo la Miracle Nation quindi probabilmente si aggiungerà un altro gioco che non voglio spoilerare anche se molti di voi sapranno già lo spoileriamo sta per arrivare appunto anche FIFA 18 quindi probabilmente faremo qualcosa anche lì non so ancora quale sicuramente non sarà Alex Hunter anche se avevo un'idea sulla carriera di Alex Hunter però adesso siamo su NBA 2K18 altra domanda che mi viene fatta perché non giochi al quartiere perché lagga come le merendine che non hanno abbastanza consistenza quindi perché comunque lagga e quindi effettivamente adesso il quartiere non lo sto cagando molto anche perché comunque bisogna giocare bene lì e non ci riesco laggando ho fatto un po' di partite forse ho beccato anche alcuni di voi in campo e ho perso spudoratamente proprio perché cioè il giocatore andava dove cacchio voleva non si capisce nulla non credo che sia un problema della mia connessione ma credo proprio che sia un problema che il parco comunque il quartiere ha ancora qualche problemino adesso godiamoci il video ragazzi arriviamo almeno a 1000 like e poi nei prossimi video vedremo anche cosa fare su FIFA 18 ed eccoci qua ragazzi contro James Harden eccolo qua inquadrato James Harden ragazzi e non sarà per niente facile questa partita assolutamente ne sono consapevole che sarà una delle partite più difficili in assoluto però nello stesso tempo potremo anche fregare il nostro Harden 14-8 per loro quindi stiamo come al solito facendo cagare non capisco perché oh 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 perfect release oh gliela rubo ad Harden gliela rubo ad Harden e questo è fondamentale adesso crossover su Harden provo di nuovo attenzione il passaggio è per Lab che è da solo e non sbaglia Lab 16 a 13 LBJ No Grande, grande, grande Forse ci sono tornato in tempo Ancora palla mia Vediamo adesso il passaggio per Thomas No, stavamo scaldando i motori Però grandissimo Trayson Thompson Ok, sono entrato io Le cose stanno cambiando Probabilmente anche per la buona difesa su Harden Devo dire che anche il mio giocatore è abbastanza bravo In difesa, cioè non è per niente male Il blocco ha funzionato Quindi c'è un cambio di marcatura importante Isaia Ma porca miseria Boom Trayson 17 a 16 Attenzione Mbamut Attenzione regà Io ci sono broderigno Il passaggio dentro Per Trayson Thompson No Attenzione al rimbalzo Quindi Nonostante tutto Ancora la palla dentro per Thompson Che è in partita Provo io Che culo Difficilissimo e forzatissimo Ma è entrata lo stesso Sto dando un buon contributo Da quando sono entrato Abbiamo ribaltato Cioè abbiamo ribaltato la partita Abbiamo ribaltato la partita Ah L'ha piazzata Blocco per Derrick C'è un cambio di marcatura De vasto Vediamo un po' Thompson Che la piazza di nuovo Ragazzi Thompson è impartitissima Raga quanto è importante L'ingresso di Miracle Mail In questa partita Cioè Stavamo perdendo Adesso stiamo facendo Una grande difesa Forse mi è scappato Gordon In una circostanza Con una grande tripla Però per il resto Non credo che abbiano fatto molto Gordon e Arden Prendila però Gordon e Arden Non credo che abbiano fatto molto Da quando sono entrato io Adesso vediamo se Gordon Riesce a fermarmi C'è un buon giropalla Probabilmente adesso Doveva essere per me Non Attenzione Perché frego tutti Non entra Però c'è ancora Thompson Ragazzi No Forse qui doveva prendere Il rimbalzo e basta E poi aspettare i compagni Era un buon giropalla Adesso tento anche Il tagliafuori C'è forse una forzatura Eccessiva E quindi ripartiamo Con Derek Rose Che ha i compagni Tutti liberi Toh JR E infatti Era libero Derek dovevi dargli la tu però Intanto qui Miracle Man Che viene intervistato Con il nuovo pizzetto Mi piace un casino Sto pizzettino E viene intervistato Perché Dice che Il suo amore era Anche per la musica Secondo quarto 28 a 22 Quindi in grasso di Miracle Importantissimo Vediamo un po' Cosa succede dopo Eh Siamo rimasti in avanti Quindi stiamo giocando Abbastanza bene Finalmente Dopo una serie di sconfitte Pesanti No Era quasi stoppato Ci sono Tutto perfetto Tranne qualche schema Ma Tutto perfetto Raga grande Altro contropiede Importantissimo Non entra Gestisco io la squadra Raga La palla è per Lab Che è da solo Mamma Boom Mamma 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 mia Uuuuh Recupero di palla Qui importantissimo Il passaggio dall'altra parte Per Thomas Che sbaglia Mannaggia Attenzione Rubo palla di nuovo Attenzione Lab Mamma mia Lebron Lebron Attenzione Perché hanno fatto Un'altra forzatura pesante Prova ad andarmene Io intanto Il passaggio è proprio per me Non vado Attenzione Perfetto tutto Non vado A cercare la tripla Ma piuttosto La sicurezza Di mettere dentro Un altro punto E questo è sempre importante Adesso dobbiamo difendere bene Attenzione Williams Proprio per Gordon Che è contro Miracle Man C'è il cambio di marcatura Invece no Torno ancora io Gordon Però riesce a passare C'è una buona difesa Da parte di Miracle Che forza è il passaggio È grande Recupero di nuovo E qui si capiscono Tante cose Però guardate le Bron Porca miseria Poteva fare la schiacciatona 59-47 Certo che se continua a portare Palla Gordon Non so quante possibilità Abbiano i Rockets Di fare bene Adesso vado proprio in una difesa Tranquillissima Ragazzi 63-49 Ancora Ottimo ingresso Stavamo perdendo E comunque stavamo anche Perdendo Punti Anche se eravamo in vantaggio Nel secondo quarto Eppure con L'ingresso di Miracle Man Stiamo cercando Di difendere bene E forse è proprio questo Anche Il ruolo Di questa guardia Nonostante L'ho fatto tiratore Sto riuscendo A difendere bene 75-70 Hanno recuperato qualcosa Ovviamente sono entrato adesso E quindi è molto importante Adesso dimostrare Di nuovo Che cosa sappiamo fare Ragazzi 75-72 E Entrare in queste situazioni Non è mai piacevole Entrare in campo In queste situazioni Però Facciamola girare Proviamo a far bene In tutti i modi Ecco qua Palla mia Provo il fintozzo Gordon non ci casca Vado ancora per Jefferson Cercando di spostare Un po' I ruoli E splash Da 3 Porca miseria James Harden Che culo Che culo Tira Love Niente Allora chiedo il supporto Proprio di Love Vediamo un po' Cosa succede Attenzione Attenzione Il pick funziona E Miracle Va a 16 punti Ancora Per l'ennesima volta L'ingresso di Miracle Mette in chiaro le cose Ragazzi Ed è veramente Bella questa cosa Quest'anno Finalmente ho fatto Un giocatore Che sa tirare a canestro Ed è importante In più situazioni Tanto Harden Cerca di portare Houston A recuperare questa partita Cosa fattibilissima ancora E intanto esco io Mannaggia Per J.A. Smith Quindi 85 A 75 Cosa Cosa No Ragazzi Prendi e tira Sto aumentando Tantissimo Ed è veramente Importante Questa cosa Anche Passatore Piano piano Sta prendendo Spezza caviglie Sto per difensivo Anche ragazzi E questo vuol dire Che sto difendendo Veramente molto bene Contropiedista Guardate quanti cartellini Guardate quanti cartellini Ehm Aumentate anche i punti Per partita A 10,3 E il voto compagno È aumentato da meno Ecco lì ragazzi Tutto quanto Ed è incredibile È una figata Grazie bro A ragione Stiamo perdendo Veramente tante partite Ragazzi Non vorrei Allarmare la squadra Ma Siamo in una situazione Brutta Bene ragazzi Anche questo episodio Si conclude qui Vi ricordo di Arrivare Veramente a 1000 like Quindi piazzate un casino di like Per supportare questa serie Ragazzi Supportatela Perché Secondo me È veramente Bello vedere come andrà a finire Tutto quanto Quindi il vostro supporto È sempre importantissimo E Quando usciranno I primi video di FIFA Vi chiedo anche lì Il supporto Ragazzi Se voi supportate la serie Con i like E con dei commenti positivi Ovviamente Io sono anche più interessato A bombardare di video La serie Se C'è un calo Effettivamente Comincio a dire Forse devo dedicarmi Di più su altri lavori Perché effettivamente Il mio tempo È veramente poco Lo sapete già Quindi dobbiamo cercare Di Stringere le cose Per fare tutto Al completo Ho completato Longshot Di Madden Devo Completare In BHK 17 E adesso Ovviamente Non posso Non completare questa Quindi È importante Il vostro supporto Con i like I commenti positivi E le condivisioni Ragazzi Se vi è piaciuto Un video Condividetelo Altra cosa importante Appunto FIFA 18 Non ho ancora deciso Cosa fare Quindi i primi video Saranno un po' random Però se vi piace Like ragazzi Perché Non li chiedo mai Probabilmente Non li ho quasi mai chiesti In questi Quasi quattro anni Di youtube Però Mi rendo conto Che stiamo arrivando Veramente A qualcosa di importante Io devo cercare di capire Cosa vi piace Se una cosa Non vi piace Non mettete il like Ovviamente Non siete obbligati Ma se vi piace Piazzatelo E se siete sul cellulare Cosa più probabile Ricordatevi che Non lo segna Spesso La prima volta Quindi se volete Supportare la serie Controllate sempre bene Di aver lasciato il like Ragazzi Grazie mille Per avermi seguito Anche in questo video Stiamo cercando Di migliorare tantissimo Il canale Stiamo arrivando A cifre importanti E spero di fare Al più presto Lo speciale 30.000 iscritti Un bacione Al prossimo video Bella Ciao